Prendiamo la linea dopo la consueta udienza del mercoledì del Santo Padre, pronti però per continuare a passare questa mattinata insieme. Una lunga e bellissima mattinata da vivere insieme, Giacomo. Stamattina vogliamo ricordare una figura molto bella, una figura che ci porta dritti alla devozione per il volto santo con delle apparizioni mistiche. Ci spostiamo al centro dello studio, diamo il buongiorno e il benvenuto a di buon mattino a Padre Duca de Girola, mo' docente dell'Ordine dei Servi di Maria. Con te stamattina, Padre Luca, cerchiamo di capire chi era Madre Perina del volto santo. Una donna tra l'altro straordinaria di cui ci siamo innamorati e da cui arriva anche una devozione ad una medaglia. Quello che è interessante notare è che lei inizia il suo itinerario nel 1890, nasce nel 1890 e muore nel 1945, quindi attraversa le due guerre. Già questo si contestualizza bene perché chiaramente entrando in una congregazione deve far fronte anche alle necessità della congregazione in tempi abbastanza difficili. Seconda cosa, questa devozione al volto santo nasce proprio da un'espressa volontà del Signore che interiormente la invita a baciarlo perché questo bacio è un bacio riparatore degli insulti che vengono fatti appunto al volto santo. Un bacio di riparazione, sottolineo questa parola perché è contro, potremmo dire, il famoso bacio di Giuda. Lei lo dice espressamente nel suo diario, nei suoi scritti che noi abbiamo anche in buona traduzione, in buona edizione. Quello che è interessante è appunto come questa devozione al volto santo potremmo considerarla proprio come un culto di fondo cristologico. E' chiaro, è una devozione al Cristo sofferente, quindi molto attuale perché raccoglie le sofferenze delle persone e si intreccia con una forte devozione mariana. Devozione che possiamo ritrovare nella vicenda, nella storia della beata madre Pierina fin dalla nascita, di nascita e di morte. Di morte perché chiaramente lei nasce l'11 di settembre, che è l'anniversario dell'apparizione di Lourdes, muore il 26 luglio 1945, memoria dei santi Gioacchino ed Anna. E nel 2015 nella cappellina appunto dove io vado solitamente a celebrare ogni 26 del mese, aveva fatto i 70 anni della morte. Ed è sepolta lì una cappellina veramente molto graziosa, con dei mosaici moderni. Vale la pena andarla bene. Poco ci andremo e ci andremo anche con i nostri telespettatori. Vale la pena anche perché noi ne abbiamo parlato, continuiamo a parlare della madre come apostola del volto santo. Volto santo. Apostola del volto santo perché ci insegna, come ci dicevi tu padre Luca, quel bacio di riparazione. La riparazione è alla base della devozione della madre e di ciò che trasmette a noi. Tra poco arriviamo anche a capire come siamo passati da uno scapolare a una medaglia, ma capiamo meglio che cosa vuol dire riparazione nel caso di madre Pierina. Contestazione perché effettivamente se vogliamo vedere madre Pierina attraverso il volto santo, madre Pierina rientra in quello specifico che sono i santi. Un santo è di contestazione. È una contestazione pacifica chiaramente. Perché? Perché quel volto santo, quel recupero delle miserie dell'uomo sublimate da Cristo, è chiaro che in qualche modo vogliono opporsi al dilagare del male. Non ci dimentichiamo una cosa, che lei durante la sua esistenza e nel museo Shea abbiamo molti reliqui, oggetti che dimostrano appunto come questa donna lungo la sua esistenza è stata particolarmente vessata. E allora vogliamo andargli a vedere insieme, ci ha nominato appunto questo luogo, l'istituto che si trova sull'Aventino dello Spirito Santo. Andiamo a ripercorrere quei luoghi e soprattutto ciò che appunto viene conservato in questo scrigno di bellezza che vuole tramandare non il momento della morte ma il momento più bello di questa beata. Andiamo insieme a Simone Nestori. Siamo nell'istituto Spirito Santo sul Colla Ventino a Roma. Questo istituto è stato edificato nel 1938 per volere di madre Pierina De Micheli. Erano anni difficili, complicati sia per lei, per le gravi prove che subì, gli attacchi di quello che lei chiamava il nemico, sia per la situazione contingente, erano gli anni della Seconda Guerra Mondiale. E' proprio questo che la spinse, appena dopo la liberazione dell'Italia settentrionaria, a ritrovare le sue suore di Milano, ad affrontare un viaggio avventuroso per andare nel 1945 a trovare le sue suore, ma durante questo viaggio contrae una grave forma di tifo e muore a Centonara d'Artò. Dopo 62 anni, nel 2007, torna il suo corpo in questo istituto che lei aveva contribuito a far nascere. E' stata costruita questa cappellina e l'abbiamo pensata come dovesse essere uno scrigno di bellezza, piena di opere d'arte, di luce, di colore, non un luogo di sepoltura con un'area funebre. Ci sono grandi vetrate e il sarcofago è incastonato di un mosaico stile cosmatesco brillante di smalti vitrei di oro zecchino. Le due vetrate sono ispirate agli scritti della madre e alla sua vita, quindi la vetrata della sua devozione con al centro il volto santo, Gesù, la Madonna, e due santi protettori, San Silvestro e Santa Teresina del Bambin Gesù, che sempre l'hanno accompagnata nelle prove che ha dovuto affrontare nella vita. La vetrata invece del rosone è ispirata proprio a un passo del suo diario, dove lei si interroga e dice, ma chi sono io? Giglio, una rosa che ha una bellezza straordinaria ma caduca, fragile, oppure sono un ramo di olivo che è odoroso, è duraturo e dà frutto benefico. E poi il rosone ha una schiera di serafini intorno che rappresentano i custodi dell'ordine divino. È proprio quest'ordine divino che è presente nella vita, seppure così segnata dal dolore di Madre Pierina. Padre Luca, ripartiamo da quel dolore di Madre Pierina con cui si chiude questo bellissimo servizio. Un dolore che lei vive e condivide. Tra l'altro abbiamo parlato di fenomeni mistici. Cerchiamo di capire quali sono questi fenomeni che poi la portano anche al conio della medaglia. Sì, fenomeni mistici sono appunto quando lei si pone appunto in dialogo, un dialogo veramente molto denso con il Signore soprattutto nei momenti in cui si trova nella prova. E nel diario, come accade in molti mistici, noi abbiamo anche, non soltanto parole scritte, ma anche segni di interpunzione, segni di sospensione. E questo è indicativo. È indicativo perché se noi andiamo a guardare altra lettura mistica, mi viene in mente Maria Maddalena De Pazzi, per dire un'altra grande figura. Si potrebbe mettere Teresa Davide, eccetera. Questi segni di interpunzione, c'è qualcosa dietro. C'è qualcosa che è teologia, perché effettivamente è una forma di rivelazione privata. Lei veicola un messaggio. Ci dona qualcosa che è frutto di un'esperienza personale. Ed è interessante, volevo ritornare un pochino sulla contestazione che dicevo prima, perché anche la stessa festa del volto santo, è una data mobile, una data mobile che si colloca al ridosso del mercoledì delle scene. Non è una data sciocca, bisogna leggere anche dietro, perché effettivamente è quella rivelazione, una volta andava molto più in voga, adesso un po' meno, però agli eccessi del... Il carnevale. Il carnevale. È una visione che ha fatto storia. Oggi è qualcosa che forse basta un pochino in... è diminuita di intensità. Però ecco, è importante vedere appunto come l'attualità del messaggio risiede proprio in questa contemplazione del Cristo crocifisso. E il discorso mariano gli va dietro, perché lei appunto è Maria e chiaramente la Madonna che vive tutta un'esistenza accanto al Cristo. La Maria appunto prima adoratrice del volto santo, ed è questo poi il thread d'union, se vogliamo dire, anche con le coincidenze di data di nascita e di morte della beata Pierina di Micheli, di cui stiamo parlando. Tra l'altro, in occasione della festa del volto santo, inizia la novena, quindi diciamo è anche un modo per prepararsi a questa festa. Ritorniamo alla genesi di quella, forse molti la conosceranno, quella piccola medaglia che nasce da uno scapolare e poi diventa una medaglia, una medaglia che viene coniata per diffondere il culto del volto santo. E questa è una medaglia che nasce sostanzialmente dalle visioni mistiche di cui ci dicevi. Sì, ed è una... Però ecco, questo discorso qui è un discorso che ritroviamo, questo non per relativizzare la figura di madre Pierina, ma lo ritroviamo anche in altri santi. Caterina Labburei. Certo, con la medaglia miracolosa di Ruudbach. Di Ruudbach. Dove effettivamente questa donna vive una vita molto normale, come del resto anche madre Pierina. E alcuni punti di contatto che noi rileviamo anche negli scritti tra lei e anche certi atteggiamenti che ritroviamo in Teresina. Teresa di Lisèo. È bello perché stiamo facendo veramente un viaggio che ci porta a capire quello che diceva Giacomo. Maria come prima adoratrice della croce, del volto santo, che conia la medaglia miracolosa per arrivare a madre Pierina che invece crea uno scapolare. Tra l'altro di solito lo scapolare è associato a Maria, penso a quello del Carmelo, penso a quello dello scapolare verde. Sono devozioni mariane che si fondono all'interno di un'unica devozione che poi è quella verso il Cristo. Stamattina con te, Padre Luca, mentre c'era l'udienza di Papa Francesco ragionavamo sulla Sacra Famiglia e sulla Trinità. La Trinità come veicolo di amore per Cristo. È quello che ci insegna questa medaglia ma che ci insegna il volto santo, Cristo che si immola per noi, che si dona per noi. Un altro dettaglio che vi vorrei dire è questo. Noi celebriamo la festa della Beata l'11 settembre. Attenzione! Volto santo! Che cosa è successo l'11 settembre di qualche anno fa? I cogli imparati? Le cose, le torri gemelle. Altro lutto, altro dolore, altra sofferenza. Quindi vedi come le cose hanno un filo rosso sotto. È una coincidenza. Però, e quel giorno si fa appunto la festa con la messa propria della Beata. Io vorrei leggere, tra l'altro, appunto dagli scritti di Madre Pierina qualcosa che riguarda nello specifico proprio questa medaglia. Ci dice questo scapolare è un'arma di difesa, uno scudo di fortezza, un pegno d'amore e di misericordia che Gesù vuole dare al mondo in questi tempi di sensualità e odio contro Dio e contro la Chiesa. Ci fa, e soprattutto, riparare agli oltraggi. È come se fosse un va-de-mecum che va insieme a questa medaglietta. Per chi la porta, non bisogna portarla così, ma rendersi conto di quello che c'è scritto dietro, quello che viene scritto da Madre Pierina. Ecco, io vorrei sottolineare una cosa per questi oggetti. Questi oggetti rinviano a significati e rinviano a significati che devono essere attualizzati, devono essere messi in pratica. Mi viene in mente lo scapolare del Carmelo. Mi viene in mente anche un'altra cosa importante, appunto la medaglia miracolosa di Ratisbonne. Detta questa medaglia a Ratisbonne, che sappiamo chi era, prima della conversione, lui si impegna e fa quello che fa. Fa tutta una... Quindi non è... E qui bisogna liberare un pochino anche dall'oggettistica. Cioè, un oggetto, un segno sacramentale, se vogliamo, che rinviva un impegno, che è legato a un impegno, se no diventa superstizione. Si cade in una deformazione. Allo stesso modo, ci sono degli oggetti che riguardano la vita della Beata Pierina che ci riportano al contrario, parallelamente proprio a quella lotta ingaggiata anche contro il demonio. Alcuni di questi oggetti li stiamo per vedere nel servizio che ha realizzato Simone Nestori e che ci testimoniano appunto non solo le stanze dove visse la Beata Pierina, ma anche la sua lotta personale contro il demonio. Andiamo. Ci troviamo nel museo dedicato alla Madre Pierina. È stato costruito nel 2010, tre anni dopo, l'arrivo del corpo della madre e la costruzione della cappella. Nella prima stanza, cioè la sua stanza da letto che conserva ancora gli arredi originali, volevamo presentarle immediatamente per quello che di peculiare aveva nella sua vita, cioè questo contatto con il soprannaturale. Nelle prime due teche, infatti, ci sono in quella di sinistra gli oggetti legati alle visioni celestiali, quindi al bambino Gesù che si è animato nelle sue braccia, oppure a tutti gli studi legati alla medaglia miracolosa a seguito della visione della Madonna, e in quella di destra, invece, tutte le testimonianze degli attacchi del nemico, e quindi la coperta bruciata, i santini bruciati o scaramentati a terra. L'itinerario di visita al museo continua con un'immagine del volto santo, che è il cuore della devozione di Madri Perina, sempre le è stato accanto sin dalla teneretà, e poi nell'esposizione di vari oggetti che le sono appartenuti, e anche con un impianto di dascalico per chi volesse conoscere tempi e luoghi. Quindi partiamo dal violino, oppure dagli oggetti di vita quotidiana, che sono testimonianze di gita all'aria aperta, ma di contro nell'ultima teca, sempre a contrasto, troviamo gli strumenti di penitenza, che Madri Perina usava su se stessa, quindi era una suora capace di questi contrasti, cioè gaia, leggera, ma anche molto seria, molto dedita al suo ruolo di suora, come anche economa e superiore. L'unico quadro presente nel museo è un piccolo olio che ha dipinto lei stessa. Dobbiamo immaginare che una suora negli anni 30, poco più che trentenne, già parlava tre lingue, dipingeva, suonava due strumenti, il pianoforte e il violino, componeva, scriveva, sapeva cucire, fotografare, quindi una personalità veramente sfaccettata e complessa. Quello che Simone Nestori e Barbara Ferrabecoli che salutiamo e ringraziamo ci hanno proposto è la visione, come concludeva, di una figura veramente sfaccettata che riusciva a racchiudere diverse anime. È una donna eclettica, una donna versatile che si... Ed è, in fondo, io credo che sia anche per ogni religioso, ogni sociodote, sì, senz'altro abbiamo al centro il Cristo, ma questo non ci vieta di interessarsi di quelle arti, di quelle lettere, di quelle realtà che sono una manifestazione della bellezza. Perché in fondo, ritorniamo al volto santo, ritorniamo un pochino alla Sacra Scrittura. Il volto santo è il volto di colui che non ha né apparenza né bellezza, però è il bello per eccellenza, il pastore bello. Isaia Giovanni, no? E in fondo è tutto il buon pastore ed è colui che per essere buono, per essere bello, passa attraverso la deformazione della croce, culto del volto santo. Tra l'altro, a me piace ricordare, tra l'altro, prima tu l'hai detto, padre Luca, è importante considerare la medaglietta come un sacramentale e perché esso lo diventi? C'è bisogno anche che ci siano altre cose legate a questo, ovvero, per esempio, il martedì andare in chiesa per una visita al Santissimo Sacramento. Da questa contemplazione ne deriva una serie di doni, di promesse che vengono fatte alla madre e che di conseguenza vengono tramandate a tutti quanti noi. È appunto quella di, anzitutto, quella di diffondere questo culto del santo volto e di difendere anche quella che è la fede cattolica. noi vediamo madre Pirina muore prima del concilio. C'è sempre questo fatto importante nella storia della chiesa del Novecento. C'è sempre. e quindi è una spiritualità se vogliamo un po' apologetica, di difesa ed è tipico di questo tipo di teologia che poi dopo cambia e diventa presentazione del dato, del dato rivelato. è una spiritualità ottima che va attualizzata appunto nella sua dimensione di attenzione alle povertà perché in fondo nel volto santo noi ci rileggiamo la povertà dell'uomo. Al tempo stesso l'attualità era molto presente nella vita. Se leggiamo la vita di madre Pirina abbiamo visto le date di nascita e morte ma se vediamo anche gli anni che vive sono anni faticosi per l'Europa intera per il mondo intero stiamo attraversando la seconda guerra mondiale e lei muore appunto quando poi termina il tutto. La coincidenza insomma della festa del volto santo con l'ultimo giorno di carnevale sono quei contrasti che cerca in qualche modo di riassumere in sé. Sì sì senz'altro ed è appunto se vogliamo andare a guardare e fare una sintesi della vita di madre Pirina possiamo dire che è una vita pasquale cioè che presenta i due volti del mistero pasquale. In chiusura abbiamo ancora un minuto per capire che cosa vuol dire diciamo il succo della devozione a madre Pirina è la contemplazione come riparazione alle ferite di Cristo che vediamo nel volto santo ma che vediamo nella stessa bellezza che lui ci dona diciamo questo è un po' il riassunto di questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme. Perché arrivi un messaggio chiaro alle persone a casa? Perché la devozione al volto santo è importante? Perché è importante focalizzarsi su quegli occhi che ci arrivano direttamente dalla sindone? Perché in fondo è uno sguardo alle tante povertà dell'uomo cioè attraverso Cristo si rilegge tutto quello che l'uomo rappresenta nella sua debolezza una debolezza che però non diventa una spada di Damocle sulla testa è sempre apertura alla speranza perché la speranza è data dalla resurrezione. E questo ce lo testimonia anche quella cappella che abbiamo visto un luogo non di morte ma un luogo di bellezza come piaceva Madre Pierina e di luce. Grazie allora a Padre Luca per essere state con noi per averci offerto questo ritratto della beata Madre Pierina. Noi ci salutiamo per qualche istante ma ritorniamo fra poco perché è mercoledì a noi ci piace cantare lo sapete non canteremo io Antonella per il vostro bene ma canterà il vincitore del festival di Sanremo Cristiano. A fra poco.